4 febbraio 1892. Nasce a Camerino il drammaturgo e magistrato Ugo Betti. Dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale, Betti termina gli studi e affronta la carriera di giudice, senza rinunciare alla vocazione per la scrittura. Il suo primo dramma, La Padrona, del 1927, viene accolto da un successo così lusinghiero da concentrare la sua attività di scrittura solo sul teatro. La sua poetica, certamente influenzata dalla professione forense, è incentrata su tematiche civili e sulla giustizia come valore morale fondante. Fra le sue opere più importanti si ricordano Frana allo Scalo Nord, Corruzione a Palazzo di Giustizia e Delitto all'Isola delle Capre.